Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi del telegiornale la dedichiamo alla festa molto sentita a Gela della Madonna delle Grazie e è prevista una massiccia presenza di fedeli in processione, vediamo Numerosi fedeli oggi rinnoveranno il rituale religioso popolare legato ai festeggiamenti di Maria Santissima delle Grazie anche quest'anno, così come è accaduto il 2 luglio scorso, la ricorrenza sarà molto partecipata sempre in ricordo del parroco della chiesa dei Cappuccini, fra Rocco Quattrocchi scomparso il 5 giugno del 2015, doveva avere combattuto contro una spietata malattia il ricordo della saggiordote è indelebile in ognuno di noi il corte oggi sarà aperto da Raffaele Dos Santos, vecario parrocchiale e da Fra Gaetano Lasperme, ministro provinciale alla tradizionale processione che per l'inizio intorno alle 16 avverrà come consuetudine la svestizione dei bambini dinanzi al simulacro della Madonna un momento toccante e commovente a Maria Santissima delle Grazie da sempre si rivolgono i genitori dei bimbi un modo per affidarli alla Madonna e chiedere la sua benedizione una devozione tra canti e richieste di aiuto in un momento assai difficile che interessa la città si pregherà per i tanti bambini gelesi affinché vengano protetti dalla Madonna e per i tanti malati che lottano contro il tumore come tradizione vuole dietro al simulacro della Madonna ci saranno donne e uomini scalzi la processione partirà dal piazzale della chiesa dei Cappuccini raggiungerà l'ospedale Vittorio Emanuele per poi proseguire per via Manzoni e subito dopo raggiungere il centro storico fino al museo archeologico e da lì il ritorno in chiesa all'arientro della Madonna fuochi d'artificio a mare ad ovest del pontile sbarcatoio e adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria e di un arresto e 5 denunce il bilancio dell'attività delle ultime ore da parte della polizia a Gela una donna di 67 anni Concetta Carnevale è stata arrestata per costruzione abusiva e violazione di sigilli dovrà scontare 6 mesi di reclusione violazione degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria e l'accusa mossa ad un 35enne e a un 36enne devono rispondere di furto aggravato due ragazzi di 14 e 15 anni un 38enne e accusato di truffa sempre la polizia ieri ha tratto in salvo da sicuro annegamento un giovane che dopo essere entrato in acqua per fare una nuotata assieme a degli amici a causa del mare mosso e delle forti correnti non è stato in grado di tornare a riva fondamentale è stato l'intervento degli uomini della polizia che intuendo lo stato di pericolo del malcapitato si sono attivati per un immediato soccorso riuscendo a trascinarlo a riva e praticando le prime manovre di rianimazione il ragazzo presentava evidenti segni di un principio di annegamento sempre la polizia durante un controllo ha eseguito ispezioni in tre lidi e due discoteche 35 le persone controllate elevate 5 contravenzioni per violazioni alle leggi sanitarie e una ragazza dicemese di 23 anni è stata denunciata dagli agenti di polizia diretti da Andrea Monaco perché è trovata in possesso di una pianta di marioana l'accusa è di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente nella veranda della cucina è stata rinvenuta una pianta di marioana alta circa 80 centimetri inoltre all'interno della sala da pranzo sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e ora occupiamoci della vicenda Porto di Gela ieri dibattito ad Agorà condotto da Franco Gallo in merito al recentissimo accordo firmato a Palermo che potrebbe diventare la chiave di volta per avviare una rinascita della città attraverso il mare e tutte le sue straordinarie potenzialità puntata affollata e come sempre interessante per la chiusura stagionale di Agorà ieri sera il rotocalco settimanale di Canale 10 si è occupato di uno dei settori strategici più importanti del tessuto economico e sociale di Gela ossia il mare e tutto ciò che vi si muove attorno il tema della portualità d'altronde è un argomento del quale si parla praticamente da sempre in città ed il più delle volte però se ne è parlato a sproposito o per meglio dire a vuoto da oltre 40 anni la vicenda dell'insabbiamento del portorifugio ad esempio è teatro di colossali prese in giro da parte dei politici locali di turno nei confronti di una popolazione in particolare di coloro ossia gli operatori portuali che sono poi i principali fruitori della struttura marina pescatori, diportisti, imprenditori della nautica e della cantieristica navale tutti vessati da una categoria quella dei politici gelesi appunto che ad ondate, visto che si parla di mare hanno preso per i fondelli con promesse, proposte e progetti mai realizzati un'intera città la redazione di Agora per chiudere la ottava edizione della fortunata trasmissione della nostra redazione giornalistica ha così scelto di occuparsi di questa tematica anche alla luce della firma Palermo nei giorni scorsi di un protocollo che permette di cominciare a pensare effettivamente ad un futuro vocato al mare cosa che nella storia recente di Gela non è mai stata presa in considerazione ossia una città di mare che non ha mai guardato alle immense risorse anche economiche che il mare offre come se gli esempi delle vicine Licata, Scoglitti e Marina di Ragusa non fossero serviti praticamente a niente la firma di Palermo così potrebbe offrire nuove opportunità e soprattutto una diversa e nuova visione anche della politica nei confronti dello sviluppo che viene dal mare un fronte, quello sud della città che comincia ora ad assumere tutta la sua valenza strategica dopo che Eni unica referente economica di questa città per oltre 50 anni ha deciso di togliere le tende da Gela e lasciare un intero territorio nella disperazione più assoluta Finalmente dunque la crisi più grave della storia moderna di Gela ha fatto riscoprire a Gelesi di essere stati praticamente baciati dalla natura e di avere cioè a disposizione una risorsa inesauribile che è appunto il mare Di tutto questo si è parlato ieri sera ad Agorà con il conduttore in studio un parterre di ospiti di tutto riguardo dal deputato regionale gelese Giuseppe Arancio del PD al presidente del consiglio comunale di Gela Alessandra Acia ed ancora il vice sindaco della città del Golfo con delega assessoriale al mare Simone Siciliano quindi il presidente del comitato del porto di Gela Massimo Livoti il presidente del comitato dei pescatori gelesi Davide Calabrese ed il presidente degli ormeggiatori e barcaioli della rada del porto di Gela Vincenzo Casciana oltre all'imprenditore navale Antonio Adragna Inoltre dietro le telecamere sono poi intervenuti anche altri rappresentanti degli operatori del porto di Gela Chi volesse rivedere questa ultima puntata della ottava edizione di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera con inizio alle ore 21 su canale 10 oppure sui nostri indirizzi social già a partire dal pomeriggio di oggi Agorà si prenderà ora una pausa per il periodo estivo ma prima di tornare con la nona edizione prevista per l'inizio dell'autunno si riserva di organizzare qualche altro appuntamento speciale già in cantiere per le prossime settimane Nel frattempo però lo staff tutto di Agorà augura buona estate a tutti i suoi affezionati telespettatori Situazione di degrado si registra all'orto Fontanelle di Gela noi questa mattina ci siamo stati con le nostre telecamere Ennesima segnalazione in merito allo stato di degrado in cui versa l'orto Fontanelle a pochi passi dal palazzo di città Gela le immagini di questa mattina parlano chiaro sporcizia ovunque ed alcuni giorni proprio in quel luogo è scattato il Grest 2016 Noi possiamo metterci la buona volontà di quella di poter collaborare anche materialmente nella pulizia di questo luogo però nella metodicità e nella costanza queste devono essere le istituzioni solo questo che noi possiamo fare ci sono tanti volontari ci sono tanti ragazzi preposti a questo e allora noi siamo qui per dare una mano a questo degrado continuo che ormai c'è nella nostra città che purtroppo è frutto di una non cultura è frutto di una mentalità così piccola che purtroppo dobbiamo dircelo a Gela ormai è atavica o sta diventando tale o è diventato uno stile di vita Chiesto dunque un intervento immediato all'amministrazione comunale Questo è già stato fatto anche per iscritto ma le risposte le risposte ancora le attendiamo sono risposte che dovrebbero essere celeri anche se io sono più che convinto che sono tante le emergenze in questa città però se non iniziamo non dico di iniziare domani o dopo domani da questo luogo ma iniziare a prendere sul serio quelle che sono le nostre problematiche piccole ma importanti per il nostro vivere qui abbiamo iniziato un'attività che è quella del greste dei ragazzi dove i genitori hanno difficoltà a portare i ragazzi perché attraversare questo luogo prima di arrivare lì nel posto dove dovrebbero stare i ragazzi hanno difficoltà perché devono fare quasi la corsa a ostacoli di fronte alla indecenza che c'è e alla incuria del posto dove ci troviamo sono state pubblicate al comune di Gela le gradatorie con i nomi dei soggetti ammessi e degli esclusi all'ottenimento del bonus socio-sanitario e dell'assegno civico l'elenco è consultabile all'albo pretorio sul sito internet del comune o negli uffici del segretariato sociale è prevista per martedì 5 luglio prossimo alle 19 nei locali del tropico med di Gela la presentazione del libro mediterraneo Sicilia-Europa un modello per l'unità europea di Maurizio Caserta e Aldo Premoli l'iniziativa è della associazione Cifra per il terzo anno consecutivo l'istituto Giovanni Verga di Gela ha programmato ed avviato l'English Summer Camp una nuova proposta per un'esperienza nuova interessante e divertente il campus è rivolto a ben 60 giovani partecipanti dai 5 ai 13 anni è stata potenziata la lingua inglese con Tutor Madrelingua provenienti dall'Irlanda e dall'Inghilterra attraverso una metodologia ludico-didattica una full immersion giornaliera nella lingua e nella cultura inglese per due settimane un mix perfetto se vogliamo di divertimento e apprendimento l'English Summer Camp rappresenta una autentica full immersion nella lingua e nella cultura inglese il punto focale di questo Summer Camp è il divertimento e il gioco quindi di learning by playing o learning with fun quindi l'apprendimento in questo modo diventa efficace significativo per i bambini e soprattutto indimenticabile ricorderanno per sempre questa fantastica esperienza è una bellissima esperienza anche per noi formatori per noi insegnanti dal momento che ci permette di comunicare in lingua inglese e di confrontare il nostro sistema didattico con un altro completamente diverso dal nostro abbiamo cinque tutors tre irlandesi e due inglesi ogni tutor ha una classe di bambini di età diversa quest'anno abbiamo anche bambini in età prescolare questo dimostra che non è mai troppo tardi né troppo presto per imparare la seconda lingua tant'è che i bambini apprendono attraverso la ripetizione orale la ridondanza il gioco il divertimento English Summer Camp è un'esperienza che coinvolge i partecipanti i docenti i coordinatori del progetto quale occasione di aggiornamento sui metodi alternativi ma altrettanto efficaci di insegnamento ed apprendimento le famiglie ospitanti hanno dimostrato apertura e grande senso di accoglienza ogni giorno dalle 9 alle 16.30 i gruppi sono impegnati in attività ludiche sportive recitazione canto e tanto altro mirate tutte all'apprendimento della lingua attraverso l'ascolto e la ripetizione anche quest'anno con l'English Summer Camp la scuola si apre offrendo agli alunni dell'istituto e non solo del territorio un'offerta formativa direi differente rispetto agli anni precedenti abbiamo sposato già questo è il nostro terzo anno la tradizione di una scuola aperta tradizione nella quale si lega ormai un dettame normativo nazionale che è quello di aprire le scuole anche nei mesi estivi ma quest'anno ci siamo diversificati ci siamo diversificati con un'offerta in lingua traducendo ed offrendo il giusto connubio fra il divertimento e l'apprendimento sono molto contenta siamo in una fase in itinere dello sviluppo del progetto e sicuramente ci rendiamo conto che il feedback è positivo è positivo da parte degli alunni che sono gli attori principali mostrano veramente tantissimo entusiasmo ma è positivo perché realmente abbiamo portato un clima English a scuola e fuori dalla scuola anche le host family che ringrazio vivamente stanno contribuendo alla buona riuscita proprio perché ospitano i tutor nelle proprie case nelle proprie famiglie e quindi educano i propri figli ad un messaggio di accoglienza che è un altro valore portante della formazione di ciascuno di noi per il resto dico ancora buon lavoro ai nostri tutor e alle coordinatrici insegnanti di lingue professoressa Di Stefano e professoressa Zuppardo nonché al mio collaboratore insegnante Quartarone che sempre devo dire con tanta dedizione competenze e professionalità fanno in modo che i progetti riescano e riescano molto bene il campus si concluderà il prossimo 8 luglio con la rappresentazione del musical show preparato dai partecipanti durante le attività di ciascuno Il mio nome è Hayley, sono 20 anni e vengo da Inglaterra, vivendo in Londra e ho avuto una esperienza in Sicilia con Bell, è stato molto bello. Ciao, mi sono Patrick, sono da Irlanda, sono 21 anni e siamo qui a Bell English Summer Camp in Gella. Siamo vivendo un'attività, i bambini sono molto divertenti e speriamo di avere molti più da fare qui e siamo molto felici di essere in Gella. Grazie per averci, abbiamo un'attività. Luigi Virone, direttore sanitario, prevista la presenza anche di Francesco Lotrovato, presidente d'onore Aias e del vescovo della diocesi di Piazza Elmerina, Monsignor Rosario Gisana, modererà i lavori, la giornalista Rosa Battaglia. E in edicola, e lo vediamo, il Corriere di Gella, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale, fondato e diretto da Rocco Cerro. Uno spiraio per il porto, la regione ha deciso di destinare 6 milioni di euro, previsti dalle compensazioni Eni, al porticciolo di Ponente. E l'argomento con cui il giornale apre la prima pagina, il servizio è di Nello Lombardo. Il rilancio dell'economia del territorio, il segretario della Will, Castania, dopo l'ottimismo manifestato la settimana scorsa dai suoi colleghi della Cisle e Cigelle, avanza qualche perplessità e indica le strategie possibili. Consiglio Comunale sulla Sanità, un mezzo fiasco, il resoconto dell'ultima seduta conclusasi con un nulla di fatto e nella pagina politica. Giulio Cordaro, nella sua rubrica Politicamente scorretto, questa settimana si occupa della questione dei parcheggi inutilizzati e infestati dai topi. All'interno, servizi di attualità e cultura, firma di Emanuele Antonuzzo, Cinzia Sciagura, Gianni Virgadaula e Gandolfo Cascio. Lo sport, con il punto sulla situazione del Gela di Orazio Accomando, è un ricordo del tennista Roberto Romagnoli, iscritto da uno dei suoi allievi, Leo Todaro. In ultima pagina, come di consueto, i piccoli annunci economici gratuiti. Ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, orario unico di lavoro per le agenzie assicurative di Gela. Fino al 9 settembre, l'utenza sarà ricevuta dalle 9 alle 13. Le agenzie rimarranno chiuse il sabato, dal 16 al 19 agosto, prossimi chiusura totale. E adesso parliamo della sfida di questa sera ai europei di calcio tra Italia e Germania. Sentiamo cosa ne pensano i gelesi. Questa sera gioca l'Italia contro la Germania, secondo lei? Come finirà? Noi con la Germania siamo stati sempre favoriti, diciamo, che è la besta nera della Germania. Speriamo che andiamo ai tempi supplementari e all'ultimo gli facciamo la beffa. Dunque lei ci crede? Io ci credo all'Italia. Attualmente è la squadra che abbiamo visto contro la Spagna. Prima no, ma adesso con la partita contro la Spagna è una bella Italia. Non abbiamo attaccanti di peso dentro l'aria, però abbiamo dei ragazzi che fanno andata e ritorno, che tornano indietro, le danno una mano. È un collettivo di squadra che potrebbe andare bene. 2-0 per l'Italia. Disegna? Disegna? Che linee? E come si chiama? Eder? Speriamo che vince l'Italia. È una speranza o una certezza? Ma io penso che ce la potrebbe fare l'Italia. Anche perché abbiamo una difesa mondiale. La Germania, secondo me, è più forte dell'Italia, però noi lo stiamo dimostrando sia in campo. E sta bene anche per 1-0. Il mio pronuncio è 2-1 per l'Italia. E chi segna secondo lei? Ma per lei è l'altro, come si chiama, quello piccolino. Eder. Eder. Secondo voi, battendo poi la Germania, andando in semifinale, l'Italia potrebbe vincerlo l'Europeo? Ma penso di sì, battendo l'Italia ce la facciamo. Speriamo per vincere però la Germania, l'Italia, 2-0 per l'Italia. L'Italia dirà la sua. Tra l'altro poi noi siamo indigesti ai tedeschi e quindi probabilmente verrà fuori una buona partita. Poi incrociando le dita magari potremo andare in semifinale. E vincendo secondo te i quarti di finale di quest'oggi, l'Italia poi potrebbe vincerlo l'Europeo? Guarda, l'Italia è sicuramente una tra le papabili per il titolo. Siamo un po' incappati in un lato del tabellone un po' indigesto perché praticamente dovremo incontrare un po' di squadre che sono ai vertici delle classifiche mondiali. Però l'Italia è una bella squadra, Conte sta dimostrando di essere un tecnico di valore. Stiamo giocando da squadra, quindi non abbiamo delle individualità che spiccono rispetto agli altri, ma siamo una grossa squadra, una bella squadra. Quindi sono fiducioso, assolutamente fiducioso. Per quello che abbiamo visto fino ad ora penso che anche stasera faremo un risultato positivo. Non so come, ma faremo un risultato positivo. Non fosse altro che lo spirito e la determinazione che invonde Conte alla squadra. La squadra è un elemento importante e quindi penso che rappresenta anche in un certo modo quello che l'Italia ha bisogno. Ha bisogno di uno spirito di rivalsa e con il calcio penso che stasera l'Italia riuscirà a fare qualcosa di positivo. Per un attimo guardando l'Italia, guardando gli europei, guardando le gesta degli azzurri, dimentichiamo per un attimo i problemi. Sì, sì, hai detto bene, l'avevo anticipato. Proprio per questo motivo, anche se c'è la congomitanza qua a Gela, la ricorrenza della Madonna delle Grazie, penso che molta gente sarà a casa a tifare Italia. E poi ritornerà in processione. Sicuramente, faremo magari anche durante la pausa un salto a vedere la Madonna per vedere poi nel secondo tempo di rimediare tutto. Primi colpi di mercato per il Terranova ex Atletico Gela, la dirigenza, in attesa di presentare la domanda di ammissione in eccellenza, ha tesserato i giocatori Umberto Armenio, Davide Ballacchino e Principe Lorenzoni, il tecnico e Angelo Vedda. Restano in giallorosso Stefano Giarratana, Aleandro Zarba, Giacomo Navanzino, Claudio Mezzasalma, Vincenzo Iannotti, Ignazio Giarrizzo, Giuseppe Sanmartino, Vincenzo Bunetto e Oscar Argetta. Sono stati avviati i contatti con Davide e Angelo Asia. È stato il piano triennale di prevenzione della corruzione il tema centrale della prima giornata della trasparenza del 2016 dell'amministrazione regionale Sicilia, svoltasi nell'Aula Magna, Saetta e Livatino, del Palazzo di Giustizia. Una giornata promossa dall'assessorato regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica con la collaborazione della struttura territoriale di formazione di Caltanissetta, guidata da Antonino Cangemi, che è stata anche un'occasione di confronto tra le autorità istituzionali e la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sulla legalità e sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Bisogna sottolineare una cosa, che tutti gli eventi accaduti in questo periodo nella pubblica amministrazione stanno dando un'immagine negativa per quanto riguarda il personale. Ciò dobbiamo evidenziare che la pubblica amministrazione deve avere un rapporto diretto con i cittadini, la legge dice che tutto quello che viene fatto deve essere pubblicato e noi dobbiamo evidenziare perché devono essere pubblicati i curriculum, la denuncia dei redditi, tutto quello che fa un amministratore è un dipendente. Noi ci dobbiamo allineare perché il rapporto con i cittadini deve essere sereno. Questo significa ancora una volta l'attestazione del ruolo centrale che questa Corte d'Appello ha nel sistema di giustizia siciliano è anche una prova della reputazione che con il nostro lavoro, con il lavoro di chi mi ha preceduto e di chi mi seguirà, siamo riusciti a acquistare nel corso del tempo. Sappiamo tutti come una delle maggiori criticità della nazione in questo momento è la corruzione che poi è frutto della mancanza di trasparenza. Tra i temi trattati dai relatori l'introduzione nel nostro ordinamento dell'Istituto del FOIA Freedom of Information Acts che nell'estendere il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni consente una piena partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e l'importanza della prevenzione della corruzione. La prefettura ha aspetti e cogli aspetti importanti della trasparenza che diciamo poi è un aspetto anche dell'anticorruzione, si collega fortemente con la lotta alla corruzione per la quale la prefettura ha compiti sia in termini proprio di supporto alle pubbliche amministrazioni, agli enti locali, in termini di redazione dei piani, sia per quanto riguarda anche la sorveglianza e poteri eventualmente di intervento con i nuovi protocolli di legalità che prevedono anche le clausole anticorruzione. Domani i soci dell'associazione Trinacria, sezione Ducezio, in occasione della giornata dei beni culturali saranno in visita al Museo archeologico di Gela. Subito dopo seguirà una visita alle mura Timolonte di Caposoprano. È prevista anche la presentazione del programma 2016, lo comunica il presidente dell'associazione Giuseppe Carnevale. Proseguono gli appuntamenti con la rassegna Teatro Sotto le Stelle all'Antidoto di Gela, giovedì 7 luglio alle 21.30. È prevista la rappresentazione in abbriscola della compagnia teatrale Antidoto. La rassegna si concluderà a settembre. L'ingresso, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. è prevista sabato 30 luglio anche l'esibizione di Giobbe Covatta. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Buona fine settimana, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.